Caro pubblico, caro pubblico qui presente, caro pubblico, a casa quanto mi sei mancato. Vi siete mancati tutti a uno a uno, mi siete mancati talmente tanto che ho contato il tempo che è passato da quell'ultima puntata della terza edizione, quel lontano 18 maggio. Dice non è vero, come non è vero? Ho contato il tempo, sono passati esattamente 224 giorni, cioè 32 settimane, 6.144 ore e poi in effetti sarebbero 368.640 secondi, 41, 42, 43, 44 secondi e via. Poi qualcuno dice ma come mai Brignano fa una trasmissione sul tempo che passa? Ma te lo credo, ma perché sono preparatissimo, io le cose le so e so anche che il tempo fugge, ruittora, il tempo corre, stringe, incombe e mi devo sbrigare. Ti pare che se ci avessi una manciata di minuti in più, ti pare che non vi parlerei stasera di quello che è successo in questo periodo in cui siamo stati lontani? Te pare a te? Se ci avessi tempo? Allora innanzitutto se avessi tempo vi racconterei del nuovo trend sportivo dell'Italia. Dagli europei di calcio alle vittorie delle Olimpiadi, alle paraolimpiadi, europei di pallavolo e di pallasgolo maschili, femminili, vittorie di softball, football americano. Ma come è possibile, dite voi, ma come mai nella storia non c'è mai stato tanto grosso il grande, il carniere pieno di medaglie d'oro, di bronzo, abbiamo vinto tutto o quasi? Proprio in un anno così, in questo anno così di mesta, no, di mestizia. Ecco, mestizia, quest'anno di mestizia. Dice, ma come mai? Ma che è successo? Ma come mai se è schioppato? Che è successo? Perché noi italiani, in effetti, nella storia siamo sempre stati, a livello sportivo, diciamo, campioni mondiali di sollevamento della forchetta, no, velocisti di zapping col dito sul telecomando, soffiatori olimpionici di minestrina, diciamo, dice, ma come mai? Sarà stato il Covid, guarda che ti vado a dire il Covid, perché con lockdown siamo diventati tutti sportivi, tutti. pur di uscire, visti i DPCM abbastanza rigidi, abbiamo comprato biciclette monopattini a motore senza motore, scarpe da ginastica, tute da ginastica, pattini, sci, pur di uscire. E abbiamo fatto molto sport, anche sul pianerottolo nel 2021. Tanto sport, troppo sport. Tant'è che l'attività fisica si è ridotta soltanto allo sport. Perché sesso? Sesso niente! Ma del poco sesso degli italiani, no, come noi, è anche abbastanza assordante come vuoto, perché diciamo come gli amatori per eccellenza non hanno fatto sesso, queste ne sono accorti tutti, persino il Papa. Papa Francesco All'Angelus, di pochi giorni fa, ci ha rimproverato, ha detto «In Italia io vedo un inverno demografico, fatte più fili, dategli giù mo', perché c'era il plexiglass che non si vedeva, ma ha fatto gesti anche abbastanza chiari, esplicativi su come farlo, come fare questi figli. Mo' io, se potessi parlare con sua santità, gli direi «Santità, io la mia parte l'ho fatta, diciamo che ce ne ho due, quindi voglio dire qualcosina in più, però voglio dire no, vorrei anche giustificare i miei connazionali, è perché Papa Francesco, io, cioè, vi vogliamo bene pure a voi, perché voi pure ci fate parte di una categoria che pure voi non vi riguarda questo, no, almeno per alcun dovrebbe, non dovrebbe, però a noi civili, siccome anche l'occhio vuole la sua parte, perché per iniziare l'arte amorosa, diciamo, l'appetito vi è mangiando, quindi un minimo di incoraggiamento, eppure noi, e noi cittadini civili, veniamo da un periodo molto difficile, centri estetici chiusi, parrucchieri chiusi, palestre chiuse, ci siamo abbruttiti sul divano con le piaghe da decupito, abbiamo mangiato l'impossibile, abbiamo impastato e cotto tutto, noi ci abbiamo provato a fare l'amore, il sesso, ma era difficile, santità, santità, gli uomini a forza di mangiare con una panza sembra esserano mangiati pure il forno, le donne con le estetiste chiuse, con i peli, sullo stinco che ramificavano, uscendo quasi dal pigiama dei paile con le ciabatte, le crocs, con la peluria qui, la ricrescita, e chiaramente, lì quando poi si fa una certa ora, quando la donna dice, amore, ma tu non mi guardi più, ma non te se può guardare, amore mio, lo vedi che non te se può guardare, lo capisci, che non è cattiveria la mia, ho capito, allora tu non mi desideri, ma non lo trovo, non me lo trovo, pensavo fosse un supplì, e invece era un coglione, pensavo, capisci, amore mio, della vita mia, in compenso però, in compenso però, l'Economist ha scritto che l'Italia è il paese dell'anno, cioè, in quest'anno il miglior paese del mondo, fra tanti, è l'Italia, che detta così sembra una bella notizia, tutti quanti noi ci siamo pavoneggiati di questa notizia, l'Italia, paese dell'anno, ma leggendo meglio l'articolo, ci accorgiamo che il premio, il paese dell'anno, non va al paese più grande, o al paese più ricco, o quello più felice, ma va al paese che è migliorato di più nel 2021, cioè, noi nel 2021 pensiamo tutti di stare nella merda, e invece siamo migliorati, pensa come stavamo nel 2020, nel 2019, nel 2018, nel 2017, e non lo sapevamo.